Banchi vuoti tra la maggioranza in Consiglio Comunale a Campobasso. I consiglieri tornano a chiedere l'azzeramento della Giunta. Praticamente ferma l'attività politica e amministrativa Palazzo San Giorgio a Campobasso. I tanti vuoti tra i banchi della maggioranza nell'ultima seduta del Consiglio Comunale confermano uno stato di malessere all'interno della stessa coalizione che guida la città capoluogo di Regione. Del resto è da tempo che mal di pancia politici si sono avuti in seno alla maggioranza fino alla richiesta formulata di un azzeramento della Giunta per il cambio di alcuni assessori. Fino a questo momento però il Sindaco Battista non ha ritenuto dover cambiare parte della squadra e da qui un rilassamento politico che non sta producendo nulla di positivo per la città. Del resto l'ultimo Consiglio Comunale non ha visto nemmeno un atto deliberativo in agenda ma solo mozioni e interrogazioni. Una discussione che si è rivelata a fine a se stessa senza produrre nulla se non i gettoni di presenza per i consiglieri. Del resto come dicevamo i vuoti tra i banchi del Consiglio proprio in seno alla maggioranza dimostrano questo stato di tensione politica resa ancora più evidente per la campagna elettorale in corso e soprattutto in vista di quella per le regionali. Anche sulla questione predisposizione del bilancio di previsione non mancano attriti tra gli stessi assessori per le poste nei singoli capitoli di spesa. Un momento no dunque per l'amministrazione comunale che finisce però con il riversarsi sulla città e nell'assenza di idee programmatiche.